E ora, Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir, su Super! Nella vita di tutti i giorni, io sono Marinette. Una ragazza normale, con una vita normale. Ma c'è una cosa che mi riguarda, che nessuno conosce, perché ho un segreto. Miraculous, pura energia, semplicemente la vita. Miraculous è la magia, che vince su tutto è l'amore. Miraculous, Miraculous!